Per più di 40 anni SSI ha dominato l'evoluzione dell'addestramento subacqueo. Insieme stiamo avanzando nel futuro. Benvenuto nella rivoluzione digitale. Per molti anni l'addestramento subacqueo è stato costretto nei libri o nelle aule didattiche. La rivoluzione digitale cambia tutto. Scaricando la nuova app Dive SSI avrai l'insegnamento a portata di dita. Il design innovativo e la tecnologia permettono l'utilizzo su ogni dispositivo e con ogni piattaforma. L'app di Dive SSI ti offre il servizio e i contenuti insieme. Guarda video completi, osserva le animazioni e completa i quiz ovunque tu sei. I subacquei in tutto il mondo amano l'acqua, ma i libri no. L'app è intuitiva, flessibile e resistente all'acqua. L'addestramento subacqueo digitale è già disponibile in 30 lingue. E se sai, parla la tua lingua. Con o senza segnale, scarica e gustati il lusso dell'accesso offline a tutti i contenuti didattici, incluso tabelle e segnali manuali. Utilizzando l'app Dive SSI puoi aggiornare istantaneamente la tua completa esperienza subacquea, individuare la tua posizione, far firmare la tua immersione e avere ancora il tempo di aggiungere una fotografia con il tuo compagno o studente. Perché un'immagine conta più di mille parole. Senza l'addestramento digitale, l'educazione subacquea è stata nel buio. La rivoluzione digitale cambia il modo in cui concepiamo l'addestramento subacqueo. In ogni momento. Ovunque. I Dive Leader possono spendere meno tempo con la carta e più con gli studenti. L'app Dive SSI, in connessione con Odin, ti permette di sfruttare meglio il tempo con i tuoi studenti e di creare subacquei migliori. Ciao. Ciao. Grazie. Come si va a dipendere con noi? Siamo. La tua certificazione è ora una certificazione digitale. Rilassati. Tutte le tue certificazioni sono ora in un unico posto. Niente più ricerche. Solo subacquea reale. L'addestramento digitale SSI è tutto quello di cui hai bisogno. Sempre. E ovunque. E ovunque. Ancora. Grazie a tutti